È fondamentale, quest'anno oltretutto leggiamo sui giornali che è una versione particolarmente virulente che quindi può creare qualche problema alle persone più anziane e più fragili. Credo che ci si debba sicuramente vaccinare con la massima urgenza in attesa che il picco dell'influenza arriverà penso nel mese di dicembre. Quindi abbiamo ancora qualche giorno di tempo, facciamola, non ci si accorge di niente. State tranquilli, è fondamentale, aiutate a difendervi utilizzando questo importante vaccino. I dati del 2024 sono in aumento rispetto al 2023, è un buon segnale? Assolutamente un buon segnale, ma bisogna aumentarli ancora di più. Ripeto, quest'anno è una variante particolarmente aggressiva, quindi non perdete tempo e fatevi vaccinare tutti.